In seguito ad alcune segnalazioni mi sono occupato della questione relativa allo scalo di varo ed alagio del porto di Fano, interessando regione comune di Fano ed organi preposti. Infatti lo scivolo per il varo delle barche, situato a fianco al porto Marina dei Cesari, pur essendo adduso pubblico, è chiuso da una sbarra, il che comporta che i proprietari di barche romeggiati fuori dal porto, così come gli utenti occasionali, siano costretti a rivolgersi a servizi a pagamento per il varo o l'alagio, oppure a recarsi presso il porto di Pesaro, che è invece sempre aperto. Ho sollecitato anche un'altra problematica riguardante i canoni minimi delle concessioni demaniali nei confronti delle associazioni senza scopo di lucro. Ho appreso che sabato scorso nel comune di Fano è stata affrontata la questione dello scalo di varo, assieme alle associazioni di portistiche e al concessionario. Mi auguro che entrambe le problematiche vengano risolte in breve tempo, perché ciò consentirebbe al porto di Fano di ottenere una maggior presenza di turisti esportivi, portando beneficio a tutta la città.